Trovato subito Soldano Ancora Lisi che si è accentrato rispetto alla sua posizione iniziale Va a calciare in porta, colpisce però il pallo Soldano arriva sulla ribattuta Il gol del vantaggio di Ferrandu, è 1-0 al diciassettesimo Attenzione al lancio lungo intercettato perfettamente dal solito Soldano Che ha verticalizzato improvvisamente per Ferrandu Va lui di punta, l'incrocio dei pali è stato toccato E ha salvato così Bianchi All'ultimo secondo Prova Risa, andare da solo in progressione Allargato tutto verso Ferrandu che non ha agganciato come avrebbe dovuto Poi in un secondo momento ci riprova Ma arriva anche il salvataggio sulla linea All'ultimissimo secondo Ponziani Ha sventagliato il pallone lungo Poi fatto ancora la perda della difesa in maglia verde Alisi riesce a metterla giù in un primo momento Alla fine poi Ferrandu riceve Ferrandu la chiude così proprio allo scadere 3-1